Musica Sta facendo scalpore in città il coinvolgimento di Monsignor Paolo Piccoli in un giallo di cronaca. Monsignor Paolo Piccoli, infatti 51 anni, nativo di Verona, fino a un paio d'anni fa in servizio a Trieste, ha prestato servizio per tanti anni come parroco di Pizzoli, comune popoloso dell'Aquilano. Oggi Monsignor Piccoli risulta sotto inchiesta come possibile responsabile del giallo del seminario che sconvolse Trieste due anni fa, quando Monsignor Giuseppe Rocco, di 92 anni, fu trovato cadavere nella sua stanza nella casa del Clero. A riportare la notizia il quotidiano terrestino il Piccolo, ma subito ha fatto il giro della città dell'Aquila, dove Monsignor Piccoli è molto conosciuto. Inizialmente la morte di Monsignor Rocco, di 92 anni, era parza naturale, poi la svolta e l'apertura di un fascicolo a carico di gnoti da parte della Procura. Gli inquirenti, infatti, ad oggi stanno indagando per omicidio. Ucciso, come riscontrò in seguito il medico legale, dalla rottura di un piccolo osso in corrispondenza della carotide che ne causò la morte. Soffocamento naturale o strangolamento dunque, le indagini a questo punto sembrano propendere per la seconda ipotesi, tanto che Don Piccoli, difeso da due avvocati, dovrà comparire il prossimo martedì 13 dicembre davanti al GUP Giorgio Nicoli, il giudice per l'udienza preliminare, chiamato a decidere a proposito della richiesta di rinvio a giudizio a suo carico davanti alla Corte d'Assise per l'ipotesi di reato di omicidio aggravato, formulata dal PM Tripani. Una svolta dovuta al fatto che una serie di piccole macchie di sangue trovate sotto il corpo di Don Rocco, riverso senza vita sul letto, appartengono senza ombra di dubbio al profilo genetico di Don Piccoli, come hanno attestato le analisi scientifiche dei RIS di Parma, che una volta accertato che quel sangue non era della vittima, hanno isolato un non ristretto elenco di DNA, soprattutto attraverso cosiddetti tamponi volontari, ovvero campioni di saliva resi dalle persone convocate dagli inquirenti. Il presunto assassino, in occasione di una delle deposizioni che l'hanno coinvolto, si sarebbe difeso sostenendo di essere affetto da una malattia dermatologica che gli provoca talvolta delle piccole emorragie anche alle mani e che il sangue si sarebbe potuto propagare nei paraggi del corpo senza vita di Don Rocco perché fu proprio lui l'accusato a impartirne la benedizione nel momento in cui venne trovato morto. Una spiegazione che però non viene ritenuta plausibile in sede investigativa, anche perché quelle macchioline sono state rinvenute appunto al di sotto del cadavere in determinati punti di difficile accessibilità, in occasione di un'estremensione, e non soltanto al di sopra o ai suoi lati. L'inchiesta non trascura anche che, nei giorni immediatamente precedenti alla morte di Don Rocco, dalla stanza di quest'ultimo sarebbero spariti alcuni oggetti sacri, o perlomeno di valore simbolico, riconducibili alla religione, una Madonna, un veliere e un cavallo. Simulacri di cui Don Rocco avrebbe denunciato in ambito ecclesiale la scomparsa, inserendo proprio Don Piccoli, che ha peraltro nel suo curriculum precedente d'inchiesta a proprio carico all'Aquila, per furto di oggetti sacri, tra quelli che se ne sarebbero potuti impossessarsi, tanto che, a ridosso del 25 aprile, lo stesso presunto killer avrebbe ricevuto dalla direzione del seminario una lettera di richiamo. Le tre statue, la Madonna, il veliere e il cavallo, sarebbero ricomparse poi a stretto giro dopo l'omicidio nella stanza di Don Rocco. Sarebbe dovuto stare a casa, agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia, il ladro di origini rumene, che la notte tra il 13 e il 14 agosto è stato arrestato dagli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico in servizio di volante all'Aquila. Era passata la mezzanotte, quando i poliziotti della volante hanno raggiunto il complesso Rottiglio Center per una segnalazione di una persona all'interno negli ufficio dell'ex service, ditta che, avendo ricevuto il segnale di allarme, ha subito avvisato il 113. Giunti immediatamente sul posto, hanno notato uscire dallo stabile un uomo con un copritombino inghiso sulle spalle che, una volta scoperto, lo ha gettato a terra, dileguandosi in direzione della SS-80. Durante l'attività di perlustrazione e alla ricerca del fuggitivo, il personale ha sorpreso l'uomo che con un oggetto metallico tentava di rompere una porta in vetro di un'altra attività commerciale. L'uomo, nuovamente scoperto, è scappato per la seconda volta e dopo un inseguimento è stato acciuffato. Negli uffici dell'ex-service lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d'ingresso, l'impianto elettrico, il sistema d'allarme, alcuni computer e un condizionatore. In alcuni vani aveva messo tutto a soccuadro. Il rumeno è attualmente destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari, con l'applicazione di un braccialetto elettronico, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso 18 aprile. Il soggetto è comunque noto agli uffici investigativi ed operativi della Questura e delle altre forze dell'ordine territoriali, per i numerosi pregiudizi di polizia a carico, quasi tutti riguardanti i reati contro il patrimonio, riportati nella sua ormai lunga permanenza nel territorio aquilano. No 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 Grazie a tutti.